Benvenuti, benvenuti a tutti e partiamo, partiamo e vediamo il messaggio, vediamo il messaggio esatto che devi ascoltare, un messaggio calibrato su di te, un messaggio esatto che devi ascoltare. Quindi utilizzerò i tarocchi Zen di Osho, utilizzerò i tarocchi di Marsiglia e utilizzerò i tarocchi del Transurfing. Vediamo l'universo che cosa deve darti, oppure una persona che può essere importante per te, quindi quello che devi fare è concentrarti se pensi che una persona debba mandarti un messaggio, oppure se non pensi che una persona debba mandarti un messaggio, sarà un messaggio dell'universo per te. E quindi cerchiamo di capire un attimino questo. Quello che devi fare è comunque scegliere o il Buddha o la piramide, o il Buddha o la piramide, oppure la stele. Il Buddha, la piramide o la stele. Quindi fai la tua scelta. Buddha, la piramide o la stele. Buddha, la piramide o la stele. Il messaggio esatto che devi ascoltare in questo momento. Qual è il messaggio dell'universo per te in questo momento? E partiamo, partiamo con chi ha scelto. Il messaggio dell'universo è la persona che ti interessa. Partiamo con chi ha scelto il Buddha. Nel frattempo iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai le notifiche dei nuovi video. Ovviamente seguimi su Instagram, TikTok, su tutti i miei canali YouTube. E se ti va, senza obbligo ovviamente, ma è sempre un piacere, fai pure donazioni al canale. E veniamo, e veniamo quindi alla prima stesa che è la stesa del Buddha. Messaggio esatto che devi ascoltare in questo momento. E veniamo alla stesa del Buddha. Messaggio esatto che devi ascoltare in questo momento. Messaggio esatto che devi ascoltare in questo momento. Vediamo che ci dice il Buddha. Messaggio esatto che devi ascoltare in questo momento. Allora, vediamo che ci dice il Buddha. Allora, diciamo che stai vivendo un momento di repressione o stai reprimendo qualcuno. Quindi questo è un concetto di fondo. Bisogna recuperare il messaggio, bisogna recuperare la tua armonia interiore. Questo è il primo punto fondamentale. E devi recuperare anche, venuta prima la carta della repressione, quindi la fiducia in te stessa. Quindi la fiducia in te stessa è quello che ti serve per, diciamo, per ottenere dei risultati. Quindi per ottenere dei risultati sia con la persona che ti interessa, sia con altre persone. Questa persona, tra virgolette, l'universo, il messaggio è recupera il self-confidence, la fiducia in te stessa, se vuoi ottenere dei risultati. E tieni presente che è molto, per te in questo momento non servono tensioni. È utile una vita regolare, una vita, tra virgolette, ordinaria. Che poi ordinaria non significa, diciamo, una vita scadente. Ma devi riuscire a, diciamo, a limitare lo stress. Perché probabilmente in questo periodo sei eccessivamente sotto pressione, in questo periodo sei eccessivamente turbata. E quindi devi imparare a ridurre un po' la pressione, devi imparare a ridurre un po'. Quindi potrebbe essere utile, ad esempio, fare della meditazione, delle sessioni di meditazione, sessioni di yoga, per riequilibrare un pochettino la tua armonia interiore. Questa persona che tu stai pensando comunque di fatto ti vede prevalentemente come un'amica o come un amico, non ti vede come un compagno o una compagna. Tieni presente anche quest'altra cosa. C'è una relazione molto, molto, diciamo, legata a una sofferenza, diciamo, da un punto di vista sentimentale affettivo. Quindi questa persona ti vede in amicizia. Quindi scordati, scordati l'amore, scordati di viverti una relazione stabile con questa persona, perché sarà una relazione sempre di amicizia. D'altra parte amore e amicizia hanno la stessa origine, per cui questo è anche importante. Anche questo. Quindi mi raccomando, mi raccomando, cerca di viverti bene la cosa. Vediamo ancora qualche informazione di più. Ricordo che la domanda è il messaggio che devi ascoltare in questo momento o da una persona che ti interessa o dall'universo, se non c'è una persona che ti interessa. Se c'è una persona che ti interessa, concentrati su questa persona, altrimenti il messaggio verrà direttamente, diciamo così, dall'universo, che ti manderà un messaggio importante. Vediamo quindi, andiamo avanti, e vediamo quindi come sono le situazioni, com'è la condizione. Quindi vediamo cosa ci dicono i tarocchi di Marsiglia, che ricordo sono tarocchi molto antichi della tarologia francese. I tarocchi di Marsiglia derivano, diciamo, sono stati studiati, utilizzati anche da Osho. Allora, ci potrà essere eventualmente una relazione in merito con questa persona, ma sarà una relazione molto superficiale, quindi un'amicizia, ma non sarà un'amicizia profonda. Probabilmente questa persona vorrebbe anche una trombamicizia, eventualmente. Trattasi comunque per te di un riferimento stabile, una persona che tu interpreti come una persona importante. Non vedo reciprocità, però. Dall'altra parte non c'è questa reciprocità, cioè quest'altra persona non ti vede di fatto come una persona con la quale portare avanti una relazione, anche una relazione stabile. E vengono tutte le carte della stabilità materiale, della stabilità fisica. Quindi questo è quello che emerge, diciamo, da questa stesa per quanto riguarda i tarocchi di Marsiglia. Persona problematica con cui avrei che fare. Ci sono dei problemi, insomma, che emergeranno, ma niente di non risolvibile, tutto risolvibile. Vediamo, tanto per approfondire, anche i tarocchi del Transurfing. Cosa ci dicono i tarocchi del Transurfing? Sfruttando un po' la sincronicità della quantistica. Ricordo che tutti i tarocchi di fatto sfruttano situazioni di sincronicità. Sincronicità, ricordo, è proprio l'evento sincronico. Quindi vediamo cosa ci dicono i tarocchi del Transurfing. Allora, il mio fine sono io. Ecco, quindi viene fuori anche un po' la repressione, non è un po' legata a Dio e il mio. Dovresti cercare di limitare un attimino l'ossessione e l'autogratificazione. Devi lasciarti un po' andare, imparare di fatto a lasciarti un po' andare, imparare di fatto a vivere le situazioni in modo molto più tranquillo, molto più rilassato. E vediamo anche che sei comunque una persona risoluta, sei una persona che ha possibilità di impegnarsi e di raggiungere anche dei risultati importanti. Quindi in questo caso devi soltanto trovare la tua tranquillità emozionale e il messaggio principale è quello, ritrova il tuo equilibrio e non lasciarti, non farti, come dire, troppe paranoie mentali, non viverti delle situazioni repressive, diciamo. Bene, passiamo alla stesa della piramide, perché ho scelto la piramide. Messaggio esatto che devi ascoltare in questo momento. Scegli una carta. Allora, vediamo sempre la piramide. Allora, è un momento di molta intensità, quindi ci saranno delle situazioni che vivrai molto intense, molto forti, quindi preparati anche emotivamente a viverti delle situazioni intense, forti, che potrebbero essere comunque importanti per la tua vita. Potrà capitare e incontrare una persona che ti farà vivere dei momenti particolari, una persona che magari manca un po' di equilibrio, una persona un po', come dire, imprevedibile. Quindi attenzione a non lasciarti coinvolgere. Concentrati molto sulla tua fonte interiore e non lasciarti coinvolgere da elementi esterni. Quindi il messaggio è, ci saranno delle situazioni molto coinvolgenti da un punto di vista esterno, tu devi sempre mantenere la tua fonte, il tuo riferimento interiore, altrimenti rischierai, diciamo, altrimenti rischierai di, come dire, di prendere l'uccio le perlanterne, magari di coinvolgerti, di innamorarti con una persona che di fatto non merita, insomma, tutto questo. Quindi alle volte ci si può innamorare proprio delle persone sbagliate. Vediamo cosa ci dicono da questo punto i tarocchi di Marsiglia. Allora, non si esclude la possibilità anche di una relazione sentimentale a breve, entro due mesi, perché più o meno il tempo è quello lì, entro due mesi potrebbe esserci una relazione sentimentale, che, diciamo, l'appeso porterà a qualche problematica, l'appeso è riuscito al contrario, quindi non saranno problematiche gravissime, ma ci saranno sicuramente delle situazioni per te un pochino problematiche, un pochettino difficoltose. E esce di nuovo il matto, quindi anche in questo caso emerge di nuovo la possibilità non trascurabile di sorprese, quindi devi stare aperto un po' a tutte le possibilità perché ci saranno possibilità e sorprese, insomma, per te. Vediamo con i tarocchi del Transurfing cosa ci dicono. Nel frattempo iscriviti al canale, attiva la campanella, seguimi ovviamente su TikTok, su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale e se ti va di fare delle donazioni sono ben accette. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi del Transurfing. Allora, stai camminando sul filo del rasoio, quindi attenzione a non mettere male il piede perché le cose possono andare bene, ma è come se vivessi una sorta di equilibrio, una sorta di equilibrio per cui attenzione, è facile cadere, è facile scivolare, è facile trovarsi in situazioni poi che potrebbero rivelarsi anche magari sgradevoli. Quindi cerca di mantenere la tua concentrazione, cerca di mantenere la tua calma e viviti la cosa nel momento giusto. E infatti viene proprio fuori il carro della vittoria che ti dice che le cose possono andare ma vanno vissute nel modo giusto. Vediamo ancora con i tarocchi qua del Transurfing. Tutto quello che farai in qualche modo si potrà ritorcere contro, quindi cerca di non fare azioni avventate. Altra cosa importante è che avrai la possibilità di eliminare un turbamento che in qualche modo ti ha coinvolto e ha anche condizionato la tua vita. Bene, passiamo alla terza stesa che è la stesa della stele. Per chi ha scelto la stele, messaggio esatto che devi ascoltare in questo momento, scegli una carta. Allora, beh, grandi cambiamenti, grandi cambiamenti in arrivo nella tua vita. La tua vita sta per essere stravolta da un certo periodo, in un certo modo. Quindi ci sono grossi cambiamenti in arrivo. La tua vita sta per migliorare, probabilmente. Vediamo un po'. Beh, migliorare, non lo so, tutto è relativo. Comunque ti aspetterà un periodo un po' di isolamento, un periodo di chiusura con il mondo, che alle volte fa anche bene, ovviamente. Attenzione alle spese, attenzione a non eccedere, perché potresti avere, non dico un tracollo finanziario, ma delle perdi di natura economica. Quindi fare un po' attenzione al lato economico. Il messaggio è quello, fai attenzione un po' al lato economico, che potrebbe essere il lato critico nella tua vita. Vediamo cosa ci dicono ancora i tarocchi di Marsiglia. Beh, e viene anche fuori il mondo, quindi diciamo che alla fine tutto è bene quel che finisce bene. I cambiamenti porteranno comunque a una crescita personale. Il mondo rappresenta la ventunesima carta, il ciclo, si chiuderà un ciclo fondamentalmente. Quindi un progetto che avevi andrà comunque in porto, un progetto che avevi si svilupperà, e ci saranno dei risultati che io ritengo essere anche i risultati positivi. Vediamo ancora una carta. Questa relazione, diciamo, di cui abbiamo accennato, sarà però una relazione anpassan e basata soprattutto sulla passione, niente di più. Cerchiamo di capire ancora meglio, approfondendo con i tarocchi del Transurfing. Vediamo sul ciclo di tarocchi del Transurfing. Beh, e qua viene fuori i nuovi soldi, quindi il problema sarà principalmente di natura economica. Qualcosa di natura economica, quindi attenzione alle risorse, perché da un punto di vista sentimentale effettivo non ci sono grosse problematiche, invece da un punto di vista economico potrebbero esserci dei problemi. E anche un po' la sicurezza, quindi la sicurezza economica. che ecco, quindi il messaggio dell'universo principale è fare attenzione alla sfera economica, perché potrebbero esserci problematiche di questa natura, da un punto di vista economico-finanziare. Bene, per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Terramasco Ufficiale, su TikTok. e comunque ti puoi abbonare e puoi fare donazioni al canale.